Potrebbe essere di natura dolosa l'incendio che ieri sera ha interessato due mezzi dei carabinieri forestali. Il fatto è accaduto a Peschici all'interno del cortile della caserma. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco e i carabinieri che hanno avviato le indagini acquisendo i filmati delle telecamere di videosorveglianza. Non si esclude al momento che l'incendio possa essere di natura dolosa. Immediata la reazione del sindaco di Peschici Francesco Tavaione in una nota diffusa attraverso il profilo Facebook afferma che la comunità peschiciana è chiamata a manifestare il suo valore, il suo coraggio e la sua forza attraverso reazioni di sdegno e dichiarazioni di netta condanna. Esprimo particolare solidarietà e sincera amicizia al comandante della stazione Giuseppe Quitadamo e a tutto il corpo dei carabinieri forestali. Confermo invece vicinanza e sostegno anche a nome di tutta l'amministrazione comunale e delle comunità che rappresento. Il grave episodio mi induce ancora una volta a chiedere a tutti unità e coesione. Solo l'unità e la coesione ci permetteranno di vincere, conclude Tavaione. Confermo invece vicino a chiedere a tutti unità e di tutta l'amministrazione comunale e di tutta l'amministrazione comunale e di tutta l'amministrazione comunale. Grazie. 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 Grazie.